salve giovine oh certo capisco sei in cerca di un po' di dinamite beh non puoi averne no no dico sul serio serve un grande livello di esperienza per maneggiare la dinamite è roba pericolosa che richiede una certa competenza puoi dire quello che vuoi non intendo rischiare d'accordo come ti pare vedi solo di usarla responsabilmente ora dove ho messo quella dannata cosa ben ritrovati ragazzi se anche questo breve video vi è piaciuto mi raccomando mettete il solito polliccetto su lasciate un commento qui sotto come sono andate le vacanze eeeh eeeh